Sappiamo che Prime Video, quindi Amazon, ha messo in cantiere una serie ispirata al Signore degli Anelli, serie che avrà un budget dirompente e che dovrebbe raccontare vicende ambientate nella seconda era della Terra di Mezzo, diventando quindi un prequel, un prequel dei film. Infatti, a livello estetico, e per quanto riguarda i personaggi che metterà in campo, sarà strettamente collegata ai film di Peter Jackson. Si è parlato tanto del soggetto, si dice che dovrebbe essere presente Sauron, c'è un'attrice che è stata scelta come giovane Galadriel, anche se l'ufficialità è sempre mancata, però quanto pare oramai è una cosa risaputa. Insomma, un progetto su cui Prime sta scommettendo tantissimo e stiamo vedendo, anche grazie alla retrospettiva del Signore degli Anelli, che il fandom tolkieniano è sempre attivo ed è sempre molto caldo. A proposito di roba calda, secondo alcuni casting call, la produzione starebbe cercando dei figuranti, quindi degli attori per parti minori, forse addirittura come comparse, degli attori ad ogni modo che siano disposti ad interpretare scene di nudo. C'è di più. Pare che nel team della serie sia presente uno dei cosiddetti coordinatori dell'intimità. Che cos'è questa figura? Il coordinatore dell'intimità è una figura preposta a spiegare agli attori, a gestire gli attori, nei riguardi di scene che includano nudità, sesso, accoppiamenti, perché non sono delle scene particolarmente facili da girare. Potrebbe crearsi dell'imbarazzo sul set e poi ci sono tutti i trucchi cinematografici del caso, che fanno sembrare che i due si stiano accoppiando quando in realtà indossano dei mutandoni, spessi così. Quindi, insomma, una figura preposta proprio a scene di questo tipo. Quindi, due indizi, forse non fanno una prova, mancherebbe un terzo indizio, ma ci siamo vicini. La deduzione che stanno facendo in molti, compreso uno dei fan site più noti del mondo tolkieniano, theonering.net, sentite come sono international, L'assunzione che stanno facendo molti è quella che prevede la presenza di scene di nudità e di amore spinto nella serie Amazon del Signore degli Anelli. Mettiamo un attimo le mani avanti. Questi figuranti nudi potrebbero veramente essere delle comparse che appaiono sullo sfondo. Queste scene di Shesho potrebbero essere diretti in maniera molto delicata, romantica, perché l'associazione diretta di molti, ed è inevitabile, è stata con Game of Thrones. Dove in effetti la componente romantica molto spesso era spinta e connotata da attributi non proprio positivi. Qui in realtà potremmo assistere a degli accoppiamenti tra personaggi all'insegna del romanticismo, del buon gusto. Ammetto però una cosuccia. Sentire parlare di nudo e di rapporti sessuali in relazione alla materia tolkieniana mi urta un pochino, c'è qualcosa che non torna. Anche qui non sono un tolkieniano proprio di quelli duri e puri, però per quella che è la mia esperienza con il suo materiale, mi sembra che la dinamica inerenta alla sfera intima sia sempre rimasta un po' lontana. Mi sembra che non l'abbia mai voluta trattare e che i rapporti romantici siano per lo più di stampo puramente romantico, quasi idealizzati. Quindi ammetto che a livello proprio istintivo pensare a nudità e al Signore degli Anelli nella stessa frase un po' mi dà fastidio. Non so neppure io dirvi il perché. Un po' mi causa quell'urto. Mi sembrano due pezzi di un puzzle che non combaciano però. Detto questo riserviamo il beneficio del dubbio. Ve l'ho detto, potrebbero essere delle scene molto tenere, idillia, che non vanno a inserire una componente magari pruriginosa all'interno di una narrazione che non dovrebbe essere pruriginosa proprio alla base. Quindi possiamo giudicare fino a un certo punto. Ammetto che nutro una certa perplessità però, Travatar. Vieni mi d'aiuto. Intanto come dice, come dicevano qualcuno in chat, così vedremo il Pipino di Pipino. Sì esattamente. Il Pipino non è ancora nato nella seconda era, quindi siamo al riparo. Magari è un altro Pipino. Scherzi a parte. Sì, allora, anch'io quando l'ho sentito, ripensando a come Jackson ha sempre rappresentato, con un'eccezione ci arriviamo tra un attimo, i rapporti amorosi nel mondo tolkeniano, cioè la nudità, un conto è Game of Thrones che è una serie molto più cruda e coi piedi per terra pur avendo roba come i draghi, mentre invece comunque Il Signore degli Anelli è epica e non so se nei poemi epici abbiano mai descritto minuziosamente il dolce su e giù dei personaggi. Poi oltretutto Tolkien, cattolico convinto, insomma non era proprio il suo primo interesse, può stare ai due che ciulano. Quindi sì, a livello estetico suona un po' strano questa eventualità. Certo, poi ripenso all'Hobbit, magari vedremo un personaggio che per imborchiare una signora le dirà, non vuoi perquisirmi, potrei avere di tutto nei pantaloni. Grazie Kili per quella bellissima battuta, ci arriveremo fra qualche settimana. Vabbè, quindi sai mai che decida di prendere da quello. Per il resto, boh, sì. Poi questo potrebbe aprire il lungo discorso, è giusto o meno mostrare scene spinte al cinema, di solito c'è quello che se la cava sempre con la battuta, con la frase di finto compromesso che non vuol dire un cazzo. Soltanto se è utile alla trama le metterai le scene di nudo, ma cosa vuol dire? Sono utili alla trama? Perché per dire, ok, metti caso che, non lo so, l'amore tra due porta alla nascita del protagonista, bene, magari devi mostrare le due che ciulano, quindi cosa vuol dire scene utili, se è utile alla trama? Vuol dire tutto, non vuol dire niente. Quindi è sempre un discorso un po' così. Sì, nel Signore degli Anelli non serve granché, sembra veramente un modo per dire, visto, siamo come Game of Thrones, ma siete il Signore degli Anelli, non siete Game of Thrones. Poi appunto sono voci, bisognerà vedere, magari sono attori che devono interpretare delle creature che vanno in giro senza veli, e quindi è per quello che hanno chiamato il tizio. Però se è uno che deve spiegare come girare scene intime sul set, sembra un'altra cosa, però sono personaggi minori. C'è un momento in cui qualcuno entra in un bordello e quindi i personaggi in sé non fanno niente, ma ci sono attorno gente che se la spassa. Non lo so. Ricordiamo che comunque sono... Il casting call sembra essere ufficiale. La presenza di questo addetto alle scene amorose è più che altro un rumor, quindi attenzione, poi magari vedremo la serie e non ci sarà nulla di tutto questo. Però la notizia sta veramente incuriosendo, ne stanno parlando anche dei fan site che di solito sono abbastanza attendibili. Quindi è lecito interrogarsi sulla faccenda. Sì, ma appunto sarebbe un po' come metterla in uno Star Wars. Cosa c'entra? Stonerebbe un pochino. In Star Wars ancora di più, perché lì è proprio un'opera indirizzata primariamente ai bambini, Signore degli Anelli. Lo vedono anche i giovincelli, però è comunque un'opera questa da già per gente un po' più cresciutella. Però detta così non suona bene. Magari poi lo vediamo e deve stare in scena talmente bene che ci rimangiamo la parola. Però detta così, anche lo vedremo nel Ritorno del Re, non è che per far vedere che Ewin e Faramir si innamorano nella versione estesa, li fanno vedere che ci danno dentro. Si parlano in questo modo poetico tipico dell'epoca e quindi capisce che si stanno innamorando. Ma anche Aragorn e Aaron non hanno mai fatto niente. Cioè, si baciano, ok, ma più di così, nulla. Quindi vedremo la torre di Sauron. Ecco, giustamente si è spesso preso in giro il fatto che l'occhio di Sauron non sembrasse l'organo femminile. Quindi in realtà si sono ispirati a quello. Hanno preso questa cosa un po' alla lettera. Vedremo. Magari appunto tanto rumore per nulla sarà una scena di una delicatezza quasi intollerabile e ricca di melassa e di buoni sentimenti. Staremo a vedere. Non diamo nulla per scontato. Un pochino di urto nella lettura della notizia l'ho sentito anch'io, lo ammetto. Però cerchiamo un attimo di rabbonirci. Al limite ci scandalizzeremo una volta. Ecco, manca un terzo indizio per fare una prova, a mio avviso. Cioè, manca un attore che dica sì, guardate, ho fatto una ciulata sul set l'altro giorno. E allora magari lì abbiamo fatto la prova. Fino a questo momento. Comunque, a sentire che esiste una figura del genere mi sono messo un po' a ridere. Poi però, ripensando a cosa dovremmo affrontare domani alle due, sì, effettivamente è una figura molto importante. Ne sa qualcosa soprattutto il signor Tommy Wiseau che per il suo capolavoro non l'ha sicuramente usata, quella figura. Eh sì, noi diamo per scontato le scene di rapporti intimi nei film. Magari anche solo suggeriti, però solitamente magari gli attori coinvolti hanno delle partner o dei partner, ci può essere l'imbarazzo, la difficoltà della rottura del ghiaccio. E quindi sì, ci sono delle figure preposte. Deve essere anche un lavoro molto singolare. Oppure come si dà un bacio realistico, senza però limonarsi per davvero. Sono delle cose... Apriremo una rubrica qui nel Matioschi Show in cui vi porteremo dietro le quinte di tutte le scene più hot della storia del cinema mainstream. Quindi senza sconfillare... Hai già visto l'88 che ha detto alle minchie, quindi abbiamo già... Esatto, è il nostro specialista di randelli degli attori famosi. Quindi siamo a posto, siamo a postissimo. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.